È stata presentata all'ospedale Santissima Trinità di Borgomanero. La donazione di un ecografo da parte dell'Associazione, la mimosa Amici del Dei Hospital Oncologico di Borgomanero, grazie al munifico, contributo Rubinetteria Fratelli Frattini di San, Maurizio Dopaglio alla SC Medicina e Chirurgia d'Accettazione ed Urgenza. Un nuovo macchinario all'avanguardia arricchisce la dotazione strumentale dell'ospedale Santissima Trinità di Borgomanero, permettendo di... Scarica gratuitamente l'app News 24 e leggi gratis i nostri giornali. E se vuoi vedere tutto il video, abbonati alla nuova televisione online e live 24 ore su 24.